Roma si è salvata solo quando ho preso la situazione in mano io. Io non ho ancora capito di che ci accusate, Cadù. D'aver speso troppo o di non aver risparmiato. No, ma avete idea voi di quello che è capace di magnasse un legionario? Ah, Cadù, asci più, perché Cadù me so io. No, 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 perché no, si sbaglia uno lì. Aspetta che ogni volta mi se ne parte. Asci più, e maniera pure sto legionario, non dico di no, però ci voleva parsimonia. Asci più, qua me c'è scritto 50 dracmi a cranio e bisognava risparmiare. Abbiamo risparmiato solo i morti. A Magnesia, a battaglia decisiva è costata il re di Siria, 50.000 uomini. No, senza contare gli elefanti da battaglia, gli di vascelli. No, Roma che ha perso solo 30 fanti e 24 cavalieri e manco una rissa, dico, eh. E abbi pazienza, e pure i sparmi scontano. Poi si sa, eh. Il soldato in guerra pensa solo a Magna. Magna e more. E tu, di fronte allo spettro della morte, io stai all'esignare Magna. Ah, Scipione, qua l'unico problema è che voi avete eseguitato a Magna, eh. Pure dopo che lo spettro della morte si era poco dileguato. E vabbè, però ma intanto la pace di Roma, la pace di Roma stendeva la sua ala su tutta la Siria. Eppure ste cose contano, eh. Il legionario Magna e la civiltà cammina. E' venuta bene così. Gentilizzo. Ma qua la civiltà. E' stato un piacere partecipare agli Open Day, qui sulla costa dei Trabocchi a Casalbordino. E non c'ero mai stato, nonostante sia abruzzesissimo, ero passato soltanto una volta a Vasto, ma avevo mancato di sostare qui, in questa cornice meravigliosa. E' stata anche la prima volta che facevo uno spettacolo sulla spiaggia. Mi è capitato di farli dovunque, ristoranti, musei, i posti più bizzarri. Su una spiaggia non era mai successo ed è stato bellissimo. Bellissimo il rapporto con la gente, bellissimo farlo con un amico come Alessandro e bellissimo stare qui. Quindi grazie e spero di tornare presto.